studio del mese di novembre 2018 il buddismo del sole la religione della rivoluzione umana parte nona il buddismo della gente risvegliarsi alla dignità della propria vita chi ha provato le più grandi sofferenze merita di godere della più grande felicità le persone più disprezzate e oppresse meritano di poter intonare un fiero canto di vittoria il buddismo di nici rendaishonin esiste per permettere a chiunque abbia sofferto di trasformare radicalmente il proprio destino e aprire la strada che conduce a una felicità duratura sono queste le convinzioni che incisi profondamente nel mio cuore come vero discepolo del secondo presidente della socca gakkai josei toda contribuire al benessere della gente alla felicità dell'umanità dipende in ultima analisi dalla capacità di stabilire un contatto concreto con le persone che soffrono nell'ambiente che ci circonda per offrire loro speranza e coraggio e aiutarle a manifestare il potere di condurre una vita felice alleati di coloro che soffrono di più una volta al maatma gandhi 1869 1948 il leader del movimento per l'indipendenza indiana arrivando a una riunione notò che i membri della casta degli intoccabili i più discriminati all'interno della società indiana erano segregati in un angolo lontano senza nemmeno degnare di uno sguardo il posto che gli era stato riservato gandhi si andò a sedere in mezzo a loro e da lì tenne il suo discorso dimostrò così in modo inequivocabile che non solo era dalla parte di questo gruppo di oppressi ma si considerava in tutto e per tutto uno di loro il suo successore il primo ministro indiano jawar harlal neuru 1889 1964 diceva che il maatma gandhi valutava ogni questione ponendosi sempre una semplice domanda è qualcosa che può arrecare beneficio alle persone meno privilegiate dell'india la soka gakkai sarà sempre dalla parte della gente aiutare chi ha sofferto di più rimarrà per sempre il criterio fondante di ogni nostra attività il buddismo di nichiren daishonin è il buddismo della gente gente in questo contesto indica tutti gli esseri umani non una particolare classe sociale ma ogni persona che abbiamo davanti in questo momento senza alcuna esclusione o discriminazione di genere nazionalità razza o etnia origine familiare o classe sociale età o professione a prescindere da quali siano i problemi che le affliggono abbraccia tutta l'umanità l'indicazione delle nazioni unite alla comunità globale di non lasciare indietro nessuno è in profonda sintonia con gli ideali del buddismo del daishonin in questa e nella prossima lezione approfondiremo lo spirito del buddismo della gente l'insegnamento che nichiren daishonin istitui grazie alla sua lotta altruistica per liberare tutte le persone dalla sofferenza iniziamo studiando il significato del go onzon che quando viene abbracciato con fede ci permette di osservare la nostra mente e ottenere direttamente l'illuminazione il go onzon è anche la chiave per aiutare le persone intorno a noi a diventare profondamente felici osservazione della mente significa osservare la propria mente vedere in essa i dieci mondi questo è ciò che si chiama osservazione della mente per esempio noi possiamo vedere i sei organi di senso degli altri ma non possiamo vedere i nostri solo quando ci guardiamo in un limpido specchio vediamo per la prima volta che siamo dotati di tutti e sei gli organi di senso allo stesso modo nei vari sutra si trovano qua e là accenni ai sei sentieri e ai quattro mondi nobili che insieme costituiscono i dieci mondi tuttavia solo guardando nel limpido specchio del sutra del loto e di grande concentrazione visione profonda di tientai possiamo vedere i nostri dieci mondi i cento mondi e mille fattori e i tremila regni in un singolo istante di vita l'oggetto di culto per l'osservazione della mente uno specchio che riflette la nostra vita così com'è sia il primo sia il secondo presidente della soka gakkai tsune saburo makiguchi e josei toda sottolinearono questo passo nella loro copia del gosho il buddismo del daishonin il buddismo della gente si preoccupa essenzialmente di rivelare la dignità intrinseca di tutti gli esseri umani ed espone un tipo di pratica accessibile a tutti che permette a chiunque di realizzare il proprio potenziale infinitamente prezioso il go onzon iscritto dal daishonin è l'essenza del buddismo della gente l'insegnamento che permette a tutti di conseguire la buddità in base al principio secondo cui abbracciare la fede nella legge mistica è di per sé osservare la propria mente l'oggetto di culto per l'osservazione della mente lo spiega chiaramente con queste parole osservazione della mente significa osservare la propria mente e vedere in essa i dieci mondi il buddismo volge lo sguardo alla dimensione interiore della vita e scava profondamente nella vera natura dell'esistenza umana perciò è chiamato la via interiore l'approccio fondamentale del buddismo consiste nell'osservare la propria mente ed esaminare accuratamente il proprio sé in modo da arrivare a comprendere l'essenza fondamentale del nostro essere se non usiamo uno specchio pur potendo vedere l'aspetto degli altri non riusciamo a vedere il nostro ma uno specchio normale non mostra ciò che abbiamo dentro e perciò per osservare la mente occorre un limpido specchio che rifletta pienamente e accuratamente la nostra vita attraverso la saggezza del buddha il daishonin qui afferma che il sutra del loto e grande concentrazione e visione profonda di tientai sono proprio uno specchio di questo tipo ciò che diventa diventa visibile in questo specchio limpido è la vita di ogni persona che si sforza sinceramente di ottenere la felicità in questo mondo di sa caratterizzato dalle sofferenze di nascita invecchiamento malattia e morte e che tale vita incarna il principio del mutuo possesso dei dieci mondi ogni persona incarna il mutuo possesso dei dieci mondi tutte le persone senza eccezione incarnano il principio del mutuo possesso dei dieci mondi se ci facciamo guidare da questa verità nelle nostre interazioni con gli altri non ci accadrà mai di abbandonare nessuno o di negarne l'umanità per una qualsiasi ragione fondamentalmente tutti meritano rispetto ogni individuo è prezioso e insostituibile il poeta americano walter whitman 1819 1892 si appellava a questo individuo l'intera l'intera teoria dell'universo converge infallibilmente su un singolo individuo precisamente su di te chiunque tu sia sei un un essere nobile prezioso sei il punto centrale sul quale si concentra l'intero universo questo afferma il poeta credere nel mutuo possesso dei dieci mondi è difficile quanto credere che il fuoco esista in una pietra o i fiori all'interno di un albero eppure nelle giuste condizioni questi fenomeni si manifestano e allora ci crediamo la cosa più difficile da credere che il mondo di buddità esista nel mondo umano com'è difficile credere al fuoco dentro l'acqua o all'acqua dentro il fuoco tuttavia si dice che il drago produca il fuoco dall'acqua e l'acqua dal fuoco e benché non lo capiamo ci crediamo quando lo vediamo accadere tu ormai credi che il mondo umano contiene gli otto gli altri otto mondi perché dunque non riesce a includervi anche la buddità i santi re cinesi yao e shun erano imparziali con tutte le persone perché percepivano un aspetto della buddità nel mondo umano il bodhisattva mai sprezzante vedeva il buddha in ogni persona che incontrava e il principe siddhartha era un uomo che divenne un buddha questi esempi dovrebbero aiutarti a credere l'oggetto di culto per l'osservazione della mente risvegliamoci al nostro pieno potenziale il daishonin spiega che la dottrina dei tremila regni in un singolo istante di vita inizia con il mutuo possesso dei dieci mondi l'apertura degli occhi il mutuo possesso dei dieci mondi è il pilastro della dottrina dei tremila regni in un singolo istante di vita in particolare il daishonin afferma in la scelta del tempo egli il buddha shakiamuni espose anche la dottrina dei tremila regni in un singolo istante di vita secondo la quale i nove mondi possiedono la buddità e la buddità possiede i nove mondi questo insegnamento secondo il quale le persone comune dei nove mondi possiedono lo stato vitale di buddità e anche e che anche il buddha che ha ottenuto l'illuminazione possiede gli stati vitali dei nove mondi è il punto cruciale del sutra del loto in particolare per quanto riguarda le persone comuni il principio che i nove mondi possiedono la buddità cioè sono dotati di questa potenzialità è la chiave per il conseguimento della buddità o illuminazione nel passo di l'oggetto di culto per l'osservazione della mente che stiamo studiando il daishonin spiega che la causa fondamentale per ottenere l'illuminazione è il mondo di buddità inerente ai nove mondi e in particolare che il mondo di buddità esiste nel mondo umano assumendo questi eterni principi come base della pratica diventa possibile il conseguimento della buddità da parte delle persone comuni in questo brano il daishonin usa similitudini facilmente comprensibili per spiegare il mutuo possesso dei dieci mondi e il principio che la buddità è inerente anche al mondo di umanità in termini generali il principio del mutuo possesso dei dieci mondi è comprensibile come spiega il daishonin con la similitudine del fuoco che esiste all'interno della pietra o dei fiori che esistono dentro l'albero in fin dei conti strofinare una pietra può provocare una scintilla e i boccioli di ciliegio o di prugno emergono dai rami dei rispettivi alberi ma quello che risulta più difficile da credere è l'ulteriore concetto che la buddità sia intrinseca nel mondo di umanità dal punto di vista logico mutuo possesso dei dieci mondi significa che la buddità esiste anche nel mondo umano però si tratta di un'idea apparentemente inconcepibile come quella che ci sia il fuoco dentro l'acqua o l'acqua dentro il fuoco perché i mondi di umanità e buddità sembrano due cose completamente diverse proprio come il fuoco e l'acqua è difficile credere immediatamente che una condizione suprema come quella di buddità esista nella nostra vita di comuni esseri umani anche se possiamo capirlo intellettualmente in termini astratti è arduo cogliere questo concetto dal punto di vista esistenziale cioè risvegliarsi autenticamente al proprio potenziale e comprendere la vera natura della propria vita il daishonin spiega in modo facilmente comprensibile questo concetto con esempi che ne danno la dimostrazione pratica e afferma che le persone possono credere in questo difficile concetto quando lo vedono accadere e cita tre esempi come prove che il mondo di umanità contiene il mondo di buddità il primo è quello degli antichi re saggi cinesi yao e shun con la loro preoccupazione imparziale per ogni persona il secondo è quello del bodhisattva mai sprezzante nel sutra del loto che vedeva la natura di buddha anche in coloro che lo attaccavano lo perseguitavano rispettando e riverendo tutti e il terzo è quello di shakiamuni che abbandonò la sua condizione principesca e conseguì la buddità da comune essere umano prendiamo a modello la lotta altruistica del daishonin nell'ambito del buddismo del daishonin non c'è esempio più grande di come la buddità sia inerente agli altri nove mondi della vita e del comportamento di nichire daishonin stesso che si batte altruisticamente per diffondere la legge mistica sopportando grandi avversità l'esempio più eclatante fu il suo abbandonare il transitorio e rivelare l'originale o shaku ken pon nel corso della tentata decapitazione durante la persecuzione di tatsunokuchi né l'apertura degli occhi scrive nel dodicesimo giorno del nono mese dello scorso anno tra le ore del topo e del bue dalle 23 alle 3 questa persona chiamata nichiren fu decapitata a tatsunokuchi con queste parole afferma di aver abbandonato il suo status transitorio di persona comune non illuminata vincolata dalle catene del karma e della sofferenza e di aver rivelato la sua vera identità o condizione vitale originale di buddha dal tempo senza inizio pur rimanendo un essere comune nel far questo da una chiara dimostrazione della dignità suprema e del potenziale prezioso vasto come l'universo risplendente nella vita del comune essere umano che ha vissuto dedicandosi alla legge il daishonin trionfò su quella persecuzione in cui rischiava di perdere la vita un tentativo di assassino orchestrato da alcuni potenti esponenti del governo militare di kamakura che volevano sbarazzarsi di lui e dimostrò la verità della legge mistica dimostrò concretamente che le persone comuni possono conseguire il supremo stato vitale di buddhita così come sono inoltre il suo esempio di abbandonare il transitorio e rivelare l'originale reca in sé la promessa che anche tutte le persone venute dopo di lui possano esprimere la propria intrinseca dignità ogni individuo possiede in sé la stessa condizione vitale supremamente nobile del daishonin attraverso le sue azioni profondamente compassionevoli il daishonin cercò di far comprendere questa verità a tutte le persone affinché fossero in grado di far emergere il proprio potenziale infinito in un altro scritto la dichiarazione unanime dei buddha delle tre esistenze afferma questi dieci mondi nascono dalla mente dell'individuo qui è stato usato come esempio un singolo individuo ma la stessa cosa vale per tutti gli esseri viventi prendiamo modello questo esempio di prova concreta che ci ha dato il daishonin e impegniamoci a realizzare assolutamente una vita vittoriosa le pratiche di shakiamuni e le virtù che come conseguenze egli ottenne sono tutte contenute nei cinque caratteri di mioho renge kyo se noi crediamo in questi cinque caratteri ci saranno garantiti naturalmente gli stessi benefici che come conseguenza egli ottenne nel capitolo durata della vita si legge sono trascorsi innumerevoli infinite centinaia di migliaia di miriadi di milioni di naiuta di kalpa da quando ho realmente conseguito la buddhità il buddha shakiamuni dentro la nostra vita è il buddha eterno dal tempo senza inizio che ottenne i tre corpi ancor prima di un tempo remoto tanti kalpa quanti i granelli di polvere di innumerevoli sistemi di mondi il capitolo durata della vita dice in origine ho praticato la via del bodhisattva e la durata della vita che ho acquisito allora non si è ancora esaurita anzi durerà per un periodo di tempo doppio di quello trascorso fino a ora stava parlando del mondo di bodhisattva che esiste nella nostra vita i bodhisattva che emersero da sottoterra numerosi come granelli di polvere di mille mondi sono i seguaci del buddha shakiamuni presenti nella nostra vita l'oggetto di culto per l'osservazione della mente l'insegnamento con cui ogni persona può conseguire l'illuminazione questo passo spiega uno degli insegnamenti più profondi del buddismo del daishonin l'idea che abbracciare la legge mistica è di per sé osservare la propria mente mio ho renghe kyo la legge mistica il grande insegnamento che abbraccia sia le sia le cause pratiche intraprese da shakiamuni nel corso di innumerevoli eoni e che lo condussero al conseguimento della buddhità sia i benefici virtù da lui ottenuti come conseguenza infatti shakiamuni diventò un buddha attraverso mio ho renghe kyo e insegnò il sutra del loto sempre basandosi su mio ho renghe kyo e ciò vale non solo per shakiamuni ma per tutti i buddha le cause e gli effetti le pratiche le virtù che si riferiscono all'illuminazione di tutti i buddha sono intrinseci nei cinque caratteri di mio ho renghe kyo nella frase se noi crediamo in abbracciamo questi cinque caratteri noi si riferisce al daishonin e ai suoi discepoli compresi noi discepoli di un'epoca successiva che abbiamo un legame diretto con lui include anche tutte le persone tutti gli esseri umani nella frase ci saranno garantiti naturalmente gli stessi benefici che come conseguenza egli ottenne naturalmente significa certamente cioè che è garantito significa che si applica a tutti chiunque qualsiasi persona può conseguire lo stato di buddhità se crediamo ovvero abbracciamo i cinque caratteri di mio ho renghe kyo recitiamo na mio ho renghe kyo e insegniamo agli altri a farlo sforzandoci nella nostra pratica buddista ci saranno garantiti esattamente le stesse cause gli stessi effetti dell'illuminazione del buddha il daishonin stabilì e rivelò questo principio per la pratica delle persone comuni per l'ottenimento dell'illuminazione nell'ultimo giorno della legge attingiamo la nostra buddità interiore con il go on zon dopo aver abbandonato il transitorio e rivelato l'originale il daishonin iscrisse il go on zon il mandala che incarna i cinque caratteri di mio ho renghe kyo in una delle sue lezioni il maestro toda discusse il principio secondo il quale abbracciare la legge mistica e di per sé osservare la propria mente citando il passo che abbiamo esaminato prima osservazione della mente significa osservare la propria mente vedere in essa i dieci mondi questo è ciò che si chiama osservazione della mente e commentandolo così letto alla luce del buddismo di nichiren osservare la propria mente significa credere nel go on zon mentre vedere in essa i dieci mondi significa recitare nammyoho renghe kyo perciò quando recitiamo nammyoho renghe kyo con fede nel go on zon i dieci mondi raffigurati nel go on zon diventano una cosa sola con i dieci mondi contenuti nella nostra vita in altre parole credendo nella legge mistica e abbracciandola ci saranno garantite le pratiche le virtù inerenti al go on zon e arriveremo a dimorare in uno stato di gioia così lo stato vitale di infinita saggezza e compassione di nichiren dai shonin il buddha dell'ultimo giorno della legge si manifesterà nella nostra vita quando risvegliamo una fede profonda e recitiamo nammyoho renghe kyo il go on zon nelle profondità del nostro essere è illuminato e richiamato dallo specchio limpido del go on zon fisico davanti al quale recitiamo così possiamo vedere il mondo di buddhità nella nostra vita poiché semplicemente abbracciandolo possiamo osservare la nostra mente e ottenere l'illuminazione il go on zon ha l'enorme potere di metterci in grado di superare qualsiasi sofferenza e di risolvere tutti i problemi l'insegnamento per superare tutte le sofferenze della vita nello stesso periodo in cui fu pubblicato un volume con le sue lezioni sull'oggetto di culto per l'osservazione della mente 1955 il presidente toda parlò spesso in varie occasioni del principio secondo il quale abbracciare la legge mistica è di per sé osservare la mente in una di queste occasioni disse che sebbene ci piacerebbe pensare di essere tutti uguali in realtà ognuno ha sofferenze e problemi diversi ma se abbracciamo il go on zon e recitiamo sinceramente nammyo ho renge kyo appariranno effetti meravigliosi nella nostra vita e senza dubbio supereremo tutte le sofferenze della vita trasformando il karma negativo e risolvendo problemi come la povertà le malattie e i dissidi familiari un'altra volta disse che abbracciando il go on zon possiamo immediatamente porre cause di buona fortuna come per esempio il raggiungimento del benessere materiale che non eravamo riuscite a creare nelle esistenze passate tutto ciò che dovete fare è conquistarvi questi risultati attraverso la fede e la condivisione di questo buddismo con gli altri noi abbiamo il go on zon affinché ogni persona possa praticare l'insegnamento per l'illuminazione universale e realizzare la propria rivoluzione umana manifestare i mondi di buddhità e i bodhisattva inerenti alla vita il daishonin cita poi due passi tratti dal sedicesimo capitolo del sutra del loto durata della vita che riguardano la manifestazione dei mondi di buddhità e di bodhisattva nella nostra vita per il daishonin lo stato vitale cui si riferiscono espressioni quali mondo di buddhità o natura di buddha non è un concetto astratto e gli afferma che il buddha shakiamoni dentro la nostra vita è sempre qui a predicare la legge sin dal tempo senza inizio questo è il buddha eterno dal tempo senza inizio che continua a impegnarsi per alleviare le sofferenze degli esseri che vivono in questo mondo di sa e permettere loro di ottenere l'illuminazione il mondo di bodhisattva che esiste nella nostra vita rappresenta lo stato vitale di chi si impegna eternamente per la felicità degli altri e allo stesso modo i bodhisattva che emersero da sottoterra numerosi come i granelli di polvere di mille mondi rappresentano il vivace stato vitale dei discepoli del buddha eterno che compiono sforzi costanti per il loro maestro e per tutti gli esseri viventi quando formuliamo il voto di dedicarci a cose un rufu lo stato vitale gioioso dei bodhisattva della terra emerge dalla terra della nostra vita il go on zone per la rivoluzione umana il buddismo di nici rendai shonin è una religione di rivoluzione umana che permette a chiunque la pratichi di trasformare il proprio karma e di risvegliare la propria forza interiore la propria saggezza è una religione che rende le persone forti e sagge e la tempra mettendole in condizioni di rimanere salde di fronte alle tempeste della vita è una religione che permette di risplendere di suprema dignità e di portare a piena fioritura le proprie potenzialità illimitate quando persone di qualsiasi origine sociale abbracciano il go on zone recitano namiò ho renghe kyo e insegnano agli altri a fare lo stesso possono creare felicità per loro e per gli altri una felicità che si propaga a macchia d'olio dalla prospettiva di questa religione umanistica il go on zone è un oggetto di culto per tutti accessibile a tutti esiste per mettere in grado ogni essere umano di realizzare la felicità è l'oggetto di culto davanti al quale preghiamo e formuliamo il voto di realizzare la pace mondiale in occasione della sua nomina a secondo presidente della socca gakkai maggio 1951 il maestro toda dichiarò con fervida dedizione oggi per cose in rufo si intende che ognuno di noi si alzi animato da un senso di missione per condividere il buddismo di nichiren daishonin con le altre persone in ogni parte del paese e aiutarle ad abbracciare il go on zone secondo lui questo si poteva realizzare solo attraverso il dialogo individuale da cuore a cuore un'altra volta fermamente convinto che cose in rufo si sarebbe diffuso in asia in tutto il mondo disse adesso è il tempo di offrire alle persone l'opportunità di abbracciare il go on zone è il tempo in cui il beneficio del go on zone risplenda luminoso come il sole di mezzogiorno noi ci adoperiamo per far conoscere il go on zone a tutti perché la vita di ogni persona è infinitamente preziosa e degna di rispetto non c'è alcuna giustificazione per discriminare qualcuno tutti siamo nati in questo mondo con una nobile missione i benefici del go on zone non sono disponibili ugualmente per tutti non occorrono intermediari tutto ciò che serve è la fede l'oggetto di culto per l'osservazione della mente è l'oggetto di culto della fede lo scopo del go on zone è permettere a ogni individuo di espandere il proprio stato vitale far brillare al massimo la propria torre preziosa nel suo commentario a l'oggetto di culto per l'osservazione della mente nichi khan shonin 1665 1726 grande esegeta del buddismo del daishonin scrive quando abbracciamo la fede in questo oggetto di culto il go on zone e recitiamo na myo ho renge kyo la nostra vita diventa immediatamente l'oggetto di culto dei 3000 regni in un singolo istante di vita diventa la vita di nichi rendaishonin coloro che abbracciano il go on zone con costanza e continuano a sforzarsi nella pratica buddista forgeranno vite di nobiltà insuperabile che ha sofferto di più merita la felicità più grande quando ogni persona comune ogni essere umano si risveglia il proprio potenziale illimitato è in grado di impiegare al meglio tutte le sue qualità questo empowerment della gente è uno dei temi più importanti del ventunesimo secolo in risposta a questa tendenza un vivace spirito di ricerca nei confronti del buddismo e la gioia e l'entusiasmo generati dalla rivoluzione umana si stanno diffondendo ovunque nel mondo un responsabile della soka gk internazionale americana ha osservato che la gente sta dimostrando grande interesse per la nostra filosofia che insegna la suprema dignità di ogni persona in base al principio del mutuo possesso dei dieci mondi e alla pratica di trasformazione del buddismo di nichira in daishonin in africa dove l'anno scorso 2016 si è svolto il primo esame di studio buddista di tutta l'africa presso 105 sedi di 19 paesi i membri stanno discutendo e condividendo la nostra filosofia umanistica con fiducia ed edizione un membro del kenya ha affermato che l'insegnamento secondo il quale ognuno di noi ha dentro il potere di diventare felice è per lui fonte di immensa ispirazione questo non è altro che il principio secondo il quale abbracciare il go onzon è di per sé osservare la mente coloro che hanno sofferto di più meritano la felicità più grande sono certo che il daishonin proverebbe una profonda gioia nel constatare come il grande insegnamento del buddismo del sole che rende possibile la trasformazione del proprio karma stia iniziando a illuminare l'africa e il resto del mondo piantiamo i semi della pace e diffondiamo la luce della speranza il buddismo della gente diffonde la sua splendente rivitalizzante luce solare sulle persone che soffrono ovunque si trovino il mio maestro si batte con tutte le forze per eliminare la sofferenza e la disperazione dalla faccia della terra seguendo le sue orme mettiamoci in cammino con determinazione rinnovata per piantare i semi di pace della legge mistica ovunque possiamo e per diffondere auree ondate di cosenrufu che si propaghino da una persona all'altra